Dylan Dog 450 dal titolo Shock. Ancora 50 numeri per il numero 500. Parliamoni insieme dopo la sigla. Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Dylan Dog Serie Regolare. Oggi parliamo insieme del numero 450 dal titolo Shock. First reaction Shock, come diceva il buon Renzi, che è un po' anche stata la reazione che ha svegliato tutti noi questa mattina sapendo della notizia della morte di Akira Toriyama. So che non c'entra nulla con Dylan Dog, però ho fatto un post apposito su Instagram, non volevo fare la stessa cosa anche su YouTube, però dato che questo video esce oggi, volevo appunto dedicare giusto un momento anche per questo fatto di cronaca e questo fatto che coinvolge comunque tutto ciò che è la cultura nerd, la cultura pop, in generale la cultura perché la creazione della sua opera di maggior successo, ovvero Dragon Ball, ha proprio trasceso il media di origine diventando un'icona mondiale. Penso che chiunque, anche i meno nerd, vedendo un disegno di Goku sappia almeno che sia un personaggio di Dragon Ball, se non appunto Goku. Quindi credo proprio che abbia fatto letteralmente il giro del mondo, il suo manga, la sua opera di maggior successo dal momento che venendo dall'Asia siamo sicuri che tutto il popolo, che quantomeno il popolo asiatico che importa i manga giapponesi e tutto il mondo della cultura occidentale ha conosciuto la sua opera. Tutti ci siamo cresciuti, io non nego che ho versato qualche lacrima ripensando non tanto alla persona in sé che ovviamente non si può conoscere di persona, ma alle esperienze che grazie alla sua opera abbiamo tutti condiviso. Io sono dell'85, avevo 15 anni, quindi non ero un bambino, non ero neanche un adulto, però ero un ragazzo e condividevamo questa passione di Dragon Ball. Ci trovavamo tutti davanti al televisore dell'oratorio perché in quel periodo, quando Goku stava combattendo con Freezer su Italia 1, proiettato su Italia 1, era estate, quindi noi comunque 15 anni eravamo in oratorio a fare volontariato, a fare gli animatori, e il mondo si fermava. Per quella mezz'ora, per quell'ora, il mondo si fermava. Tutti eravamo lì incollati davanti al televisore ad aspettare che Goku si trasformasse in Super Saiyan e sconfiggesse Freezer. Quando cambiava, tra virgolette, il colore della sua aura, portandola ad un'aura rossa, ci chiedevamo, ma è questa la trasformazione in Super Saiyan o sta usando il Kaioken, finché appunto poi non sono comparsi i famosissimi capelli biondo platino. Quindi ricorderò sempre, porterò sempre nel cuore questo ricordo, e sapere che chi ha creato tutto questo non c'è più, fa un pochino male. Ma ora, bando alle ciance, scusate questo momento melenso, parliamo appunto del fumetto in questione. Dylan Dog 450 dal titolo Shock di Barbara Baraldi, che è ormai a tutti gli effetti, nel senso ormai è rodata come curatrice di testata, ma in questo numero è anche sceneggiatrice, quindi il soggetto della sceneggiatura sono suoi. I disegni sono di Nicola Mari, non lo dico mai, ma ovviamente le copertine sono sempre dei Cestaro Bros. Allora, devo dire che forse dopo anche l'ultimo numero di Dylan Dog, sfogliare le prime pagine di questo numero, abbiamo ben una, due, tre, tre tavole mute, tre tavole mute, con i disegni di Nicola Mari e una griglia abbastanza standard, mi hanno ricordato per l'ennesima volta che questo potrebbe essere un numero dell'old boy promosso alla testata principale. Forse anche perché io associo molto, per qualche ragione, il tratto di Nicola Mari all'old boy. Non so perché, lo abbiamo già visto nella serie regolare, però mi ricorda un certo tipo di fumetto fatto in un certo modo e la griglia ovviamente non aiuta. Non è un male avere un taglio vecchio, vecchio stile, però diciamo era un po' quello che io cercavo nella testata principale per differenziarsi quantomeno dall'old boy. Questa sensazione però sparisce subito in fretta e lascia spazio innanzitutto a quella sensazione di cult, di ritorno al cult che ci ha dato Barbara Baraldi con la sua curatela, quando quello che entra dalla porta del bar, del pub dove Dylan e Block stavano bevendo può ricordare uno zombie, quindi c'è un po' questo... ci fa subito capire questa cosa che siamo nel mondo di Dylan Dog, quindi dove anche un consumatore di birra londinese sa che comunque gli zombie possono esistere, questa cosa mi è piaciuta molto, ci ha subito portato nel mondo sovrannaturale di Dylan Dog e devo dire che mano a mano che poi ho letto la storia invece si è fatta sempre più interessante anche perché mano a mano che si poteva capire quello che credevamo fosse l'andazzo di questa storia, poi Barbara Baraldi con un altro colpo, o meglio con un colpo di scena finale che ha sviato tutte le nostre ipotesi e anche le ipotesi di Dylan Dog che erano le più, in un certo senso, le più astruse, ci ha fatto sobbalzare sulla sedia, ci ha fatto capire che anche le vittime a volte quando continuano a essere vessate, a essere vittime, si ribellano e la loro ribellione può farle diventare loro stesse dei carnefici e quindi in questo numero dove nessuno è totalmente innocente ci hanno mostrato anche un tema molto attuale che tra l'altro si sposa benissimo con la giornata internazionale delle donne che oggi è l'otto marzo, comunemente nota come festa della donna ma in realtà è la giornata internazionale della donna e tocca un tema caldissimo che è anche quello degli abusi domestici da parte appunto di compagni violenti, non tanto appunto il serial killer che si aggira in zone che colpisce le famiglie in generale e poi appunto tortura le donne per poi uccidere anche quelle ma anche per quello che ha subito l'ultima vittima di questo serial killer ovvero prima di essere appunto rapita e torturata dal serial killer aveva anche subito degli abusi in famiglia e questo l'ha resa diversa dalle altre vittime, la resa forse più risoluta nel ribellarsi a questo serial killer al punto da come dire da volersi vendicare e questo risvolto è stato davvero forte da leggere, è stato attualissimo, è stato molto molto intenso, l'ho apprezzato un sacco perché comunque ribalta anche un po' gli stereotipi, ribalta lo stereotipo del carnefice, lo stereotipo della vittima ed è proprio una ventata di aria fresca sia perché tocca un tema attuale e sia appunto perché è una narrazione fresca che non si era mai vista quindi è qualcosa di nuovo con delle linee classiche sul fumetto di Dylan Dog che è un po' quello che la Baraldi sta portando a testa alta nella testata principale, sono davvero molto contento di aver letto questo numero e sicuramente sarà uno dei numeri che conserverò, è mio programma a breve tenere solo, io non sono un collezionista lo sapete, tenere solo i numeri di Dylan Dog, in generale solo tenere i fumetti che avrò intenzione di rileggere nella mia vita quindi sicuramente ci sarà una cernita sui fumetti che venderò per fare un po' di spazio in libreria e sicuramente Shock resterà tra quelli che invece conserverò con passione che magari rileggerò o vorrò far leggere ai miei cari un domani perché sono queste le prove di un fumetto quando porta a termine il suo gol ovvero è così bello da volerlo condividere con gli altri. Questa recensione è breve perché non vorrei dire troppo, non vorrei spoilerare anche se comunque è uscito da una settimana abbondante però mi piacerebbe restare sul no spoiler proprio perché appunto non voglio dire troppo, chi tanto ha letto il numero sa a cosa mi riferisco e spero che chi non abbia letto il numero e abbia ascoltato questa recensione comunque non si sia spoilerato troppo quello che succede, quello che va a succedere in questa storia. Dylan Dog 450 Shock ve lo consiglio tantissimo, è un mezzo traguardo verso il numero 500, sono molto curioso di sapere come si evolverà Dylan Dog in questi prossimi 50 numeri, sono molto curioso di sapere cosa succederà nel numero 500, magari che ne so, non so se quando uscirà il numero 500 io lo starò ancora leggendo o userò quel numero come pausa oppure sarò già in pausa da un po' e ricomprerò proprio il 500 però ci tengo particolarmente a stare ancora un po' su questo carro per vedere come va il percorso, sicuramente i numeri della Baraldi che sia alla curatela sia alla sceneggiatura adesso che stanno sfornando questa tipologia di storie saranno sempre una garanzia per l'acquisto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero e come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video che non è lunghissimo come gli altri però insomma ecco mi sono dilungato magari in un altro argomento e scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci, al prossimo numero. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!